I Donzelli, consiglieri regionali del Neogruppo Fratelli d'Italia, hanno affermato che la volontà di Monti di non rinunciare alla carica di senatore a vita rende il professore poco credibile. Fratelli d'Italia farà parte della coalizione di centro-destra, ma sentiamo il consigliere Paolo Marcheschi. Chiediamo a Monti se vuole salire in politica e scendere dalla poltrona. Chiediamo che lasci tutti i suoi privilegi dal senatore a vita e si butti in politica come facciamo tutti noi, mettendoci la faccia e chiedendo voti agli italiani. Se gli italiani lo votano ha diritto a stare in Parlamento, altrimenti starà a casa come tutti i politici trombati. Credo che sia un atto di verità che lui deve fare nei confronti di tutti gli elettori italiani.